È orribile quello che sta accadendo in questa città. C'è qualche problema? Sono famenici. Spietati. Più di diabolic. Dobbiamo ucciderlo. Lui è quell'ispettore. Jinko. Ho passato tutto questo tempo a dare la caccia a un fantasma. Diabolic. Che sei? Che sei? Che sei? Over there. Che sei? È irgendwas a quella... Che sei? Che sei? Che sei? Grazie a tutti.